Buongiorno a tutti, oggi con una nuova iniziativa Io Straniero, questo voucher. Cosa serve questo voucher? Innanzitutto questo annuncio è dedicato a tutti già i nostri clienti che hanno necessità di portare un amico o un parente presso uno dei nostri studi specializzati in diritto di immigrazione per appunto aprire una pratica in quanto hanno una problematica. Nel momento in cui presenterete questo voucher che è disponibile presso i nostri studi di assistenza a immigrazione di Milano, Bergamo, Roma e Firenze, potrete usufruire di una scontistica di 100 euro sulla vostra pratica. Che cosa vuol dire? Che se io sono già cliente e devo ancora saldare la mia pratica nel momento in cui porto un amico o un parente che necessita della nostra assistenza avrò uno sconto sulla pratica in essere. Quindi mi raccomando per qualsiasi informazione mandate un messaggio al 345-448-4526 e noi saremo lieti di aiutarvi. Ovviamente presso tutti i nostri studi la nostra prima consulenza è gratuita quindi potete venire tranquillamente col vostro amico o il vostro parente nel caso in cui decidesse di aprire una pratica voi, ossia voi i nostri già clienti avrete uno sconto di 100 euro sul totale della pratica. A presto!